dal maconè alla punta più settentrionale della cote d'ora troviamo una certa continuità territoriale se invece parliamo di chablisienne auxerroises dobbiamo necessariamente spostarci di 200 chilometri a nord della cote d'ora quindi non abbiamo proprio questa continuità di territorio abbiamo caratteristiche completamente differenti mettiamo da un da parte per un attimo la zona più di auxerro che è diventata poi famosa anche per la spumatizzazione e per i rosati ma cerchiamo di concentrarci su lo chablis per via ovviamente della città che l'ha reso famoso nel mondo questa è la patria del chardonnay lo chardonnay venuto dal freddo siamo a ridosso della cote bar quindi siamo a ridosso della champagne il suolo qui oltre ad avere una componente di calcare di argilla e di marne è contraddistinto dalla grandissima presenza di gesso quindi ricordano un poco quelle che sono le caratteristiche tipiche della regione della champagne effettivamente dobbiamo anche tenere a mente che nel tempo quando ancora all'inizio del novecento non esisteva un sistema rigido di a o sì dai pernay reims mandavano dei selezionatori a scegliere le uve di chardonnay che provenivano appunto dal lo chablis per andarle a spumatizzare e creare lo champagne quindi per un tempo abbastanza ampio è stato un fornitore anche di champagne questo è un territorio antico freddo quando pensiamo a chablis pensiamo anche alle montagne ma in realtà i vigneti si trovano a massimo 200 250 metri di profondo da un punto di vista anche storico qui già i romani producevano vino e lo facevano per cercare di dare sostentamento ai legionari che dovevano affrontare il duro inverno nella guerra contro i galli dopo i romani abbiamo avuto comunque la comparsa già dal concetto di vino di chablis però lo chardonnay al tempo ancora non esisteva perché sappiamo essere un nuovo vitigno ibrido che è nato all'inizio del medioevo quindi si utilizzavano vitigni a bacca bianca per andare a fare un vino fermo che aveva comunque delle caratteristiche assai interessanti con una spiccata freschezza e delle note leggermente fumé leggermente minerali che ricordavano un po la pietra focaio questa è una caratteristica che poi abbiamo ritrovato anche nello chardonnay con una acidità una freschezza che contraddistingue lo chablis in tutte le sue declinazioni ecco parlavamo della storia lo sviluppo dello chablis passa anche dalle invasioni dei vichinghi perché si i monaci si dovettero spostare da tuor fino a oxer per cercare di scamparla appunto di poter sopravvivere qui iniziarono ad allevare la vita in maniera consapevole andando a ridisegnare come erano soliti fare territorio in funzione dei vitigni andando quindi a mappare una sorta di sistema di clou al tempo ovviamente il vino serviva principalmente per celebrare le messe ma era anche un sostentamento commerciale tant'è che la vicinanza dei corsi fluviali dava la possibilità di andare a commercializzare direttamente questo vino sulla capitale su parigi tant'è che lo chablis divenne estremamente popolare estremamente importante al tempo si utilizzavano dei piccoli contenitori di legno da 100 120 litri per andare a fare le vinificazioni ma noi non dobbiamo confonderci lo chardonnay di chablis non è lo chardonnay che poi ritroviamo nella cotta or quindi non è caratterizzato da questi grandi passaggi in legno nonostante ovviamente con l'epoca contemporanea alcuni produttori si siano adattati a quelle che erano le richieste del mercato ma è contraddistinto dalla pulizia quindi da questo lavoro fatto principalmente in acciaio o comunque in contenitori che non rilasciano assolutamente nulla e permettono di esaltare fino in fondo la grande freschezza quindi la grande acidità che lo chardonnay riesce a esprimere su territori gessosi con temperatura molto fredda e quello chablis appunto è caratterizzato da questo dobbiamo pensare che lo chablis ha avuto comunque nella storia dei momenti di estremo picco di notorietà ma anche dei momenti bui la massimo della notorietà l'ha raggiunto quando è stato esportato verso l'inghilterra in inghilterra è stato estremamente apprezzato ed è diventato un vino anche molto costoso piano piano quindi i produttori hanno iniziato a concentrarsi a focalizzarsi esclusivamente sulla produzione di chablis piuttosto che dare uve per la produzione anche di champagne dobbiamo però tenere a mente che a un certo punto lo sviluppo industriale in realtà ha tarpato le ali a questo territorio perché con l'arrivo della ferrovia molti dei vini delle altre regioni hanno iniziato a viaggiare sia verso la capitale che negli altri territori limitando quello che era appunto lo sviluppo commerciale dello chablis per non parlare poi del flagello della fillossera che ha ovviamente decimato i vigneti di chardonnay nella zona dello chablis ma un'altra piaga per lo sviluppo e il successo di questo vino è stato rappresentato dalla seconda guerra dalla prima della seconda guerra mondiale questo periodo siamo arrivati ad avere tra i 200 e 300 ettari di vigneto e basta quindi è dal finire degli anni 50 che viviamo un nuovo momento di successo lavorando quindi su contenitori inerti cercando di nuovo di esaltare quello che era l'aspetto di pulizia ed eleganza propria del chardonnay in questo territorio il successo contemporaneo e moderno dello chablis l'ha portato ad essere uno dei vini più copiati in assoluto nel nuovo mondo si è iniziato a produrre vini a base chardonnay cercando di imitare questo stile ricorrendo però troppo spesso a un sovrautilizzo del legno cercando di caricare lo chardonnay più in uno stile burroso ampio di struttura di corpo ma spesso si riportava in etichetta la parola chablis proprio per cercare di identificare uno stile che di fatto quel vino stesso non stava identificando perché se vogliamo la l'avvolgenza e la rotondità dobbiamo andare necessariamente sull'equilibrio che troviamo nella cotto or qui abbiamo grande eleganza grande verticalità e abbiamo questi sentori di pietra focaia e minerale che lo contraddistinguono va detto che il mondo chablis è saputo in qualche modo andare anche incontro a queste esigenze ricorrendo non spessissimo all'impiego delle barrique per il resto si riprende il tradizionale sistema di classificazione qualitativo della borgogna quindi andremo a trovare nella penultima fascia quella migliore i gran cru e un gradino sotto i premier cru va detto che i gran cru in chablis sono soltanto sette leclos è uno che possiamo citare e rappresenta alla perfezione quello che era stato il sistema di chiusura e di tracciamento dei vigneti fatto dai monaci già in antichità vero che i vini chablis non sono poi così facili da capire anche se questa beva molto fresca molto sapida oggi è estremamente contemporanea ma per tanto tempo sono stati alquanto incompresi sistema di classificazione in realtà ci indica già quella che è la qualità che possiamo ritrovare all'interno di un calice consideriamo che circa l'ottanta per cento della produzione è concentrata sul petit chablis quindi siamo a fondo valle e sullo chablis cosiddetto village il premier cru a circa 40 vigneti dedicati mentre se parliamo di gran cru sono appunto soltanto sette questo mondo di la coltivazione della vite quindi l'allevamento è una sfida continua perché perché le temperature sono veramente fredde in primavera le gelate sono all'ordine del giorno tant'è che i produttori si sono dovuti ingegnare più e più volte per trovare il rimedio e trovare delle soluzioni che permettessero di garantirsi la luva di potersi garantire appunto di portare avanti la perfetta maturazione una tecnica molto diffusa soprattutto durante la fase del germogliamento rappresentato dal cospargere di acqua i tralci in maniera tale che con le temperature molto basse l'acqua si geli congelando il tralcio e andando quindi a rivestire di una protezione naturale quello che è il germoglio quindi a quel punto la gelata non crea realmente problemi l'altra è quella che tocca l'immaginario di tutti appassionati di vino perché stiamo parlando delle stufe messe in vigna a volte dei falò a volte delle vere e proprie stufe che cercano di contrastare soprattutto nei periodi in cui le temperature vanno troppo giù il freddo e cercano anche di risolvere il problema della gelata improvvisa che in primavera può compromettere effettivamente la produzione la maison collè gros è esattamente un meson che rappresenta la sfida dell'uomo verso la natura si trova a flei una paese di circa 200 anime in cui molti degli abitanti sono appunto dediti alla viticoltura e lavorano per i vari domen che si trovano nella zona famiglia goteran ha deciso qui di andare a sviluppare uno chablis in maniera tradizionale non ha vigneti gran cru arriva fino ai premier cru e lavora anche spesso e volentieri sul petit chablis e lo chablis village ma quello che cerca di fare è esaltare al massimo le caratteristiche dello chardonnay qua andando a fare vinificazioni in acciaio e lasciando poi il vino a contatto con le fecce fini per circa sei mesi andando poi a utilizzare continui batonage cercando quindi di tenere in continuazione in sospensione le fecce fini con il vino in maniera tale da poter estrarre in modo naturale tutto quello che poi donerà corpo e struttura al vino oltre che quella complessità organolettica che ci piace tantissimo da appassionati ma che non sempre ritroviamo nei territori molto freddi ecco il loro chablis il loro chardonnay è un perfetto perfetto esempio di verticalità di freschezza di sapidità con questo naso che ricorda immediatamente la pietra focaia ed è dunque un emblema proprio di quello che lo chablis oggi può essere e quindi e quindi e quindi e quindi Grazie a tutti